Le leve della manipolazione. Allora, le due leve principali della manipolazione sono l'alternanza del dolore e del piacere. Cioè tutti noi esseri umani cerchiamo di sfuggire dal dolore e andare verso il piacere. Poi magari ci agganciamo a situazioni di sofferenza emotiva. Però diciamo in linea di principio ciò che ci fa male cerchiamo a livello logico di evitarlo. E quindi le persone manipolative cosa fanno? Sfruttano le tue paure e quindi il tuo dolore. Se tu hai avuto del dolore forte per l'abbandono affettivo ad esempio, il manipolatore ti farà provare l'abbandono affettivo, si allontanerà, ma ti darà la soluzione. Vuoi superare l'abbandono affettivo? Vuoi che non ti abbandono? Fa quello che io ti chiedo e io non ti abbandonerò e quindi tu proverai piacere. E quindi questa è una forma di manipolazione. Quindi il manipolatore ti fa percepire il dolore e poi ti dà la soluzione per non provare più questo dolore che consiste nell'eseguire il compito che il manipolatore ti dà. Perché il manipolatore vuole ottenere, diciamo, da buon manipolatore, la sua, come possiamo dire, il suo obiettivo. Vuole far sì che tu faccia quello che lui desidera. Queste sono le strategie principali. Ovviamente l'abilità del manipolatore è capire quali sono le cose che ti danno sofferenza. Quali sono le cose... Ma poi per farti percepire il dolore ancora prima ti fa provare un forte piacere. Ad esempio attraverso il love bombing. Perché un altro modo di dare dolore è toglierti il piacere. Chi ti ho procurato? Ti procuro piacere attraverso il love bombing? Perché ti gratifico, perché ti sono vicino, eccetera. Poi te lo tolgo e allora tu inizia a provare dolore. Questo l'abbiamo sperimentato tutti. Prima di avere una relazione, nessuno soffriva, diciamo, non avendo una relazione. Quando provi una relazione che ti dà pagamento e poi questa relazione sparisce, allora tu provi dolore. Ma in realtà perché provi dolore? Perché prima hai provato piacere. Se tu non hai mai mangiato i pasticcini, fare questa cosa qua è neutra. Se io però ti faccio mangiare i pasticcini, dandoti un piacere aggiuntivo e poi te li tolgo, allora tu provi dolore. Perché noi esseri umani non riusciamo a percepire il mondo in modo assoluto, ma lo percepiamo per comparazione. Queste sono le leve principali della manipolazione. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco e su TikTok e su YouTube.